And say guys, I'm Alexx, and today come potete vedere siamo qui su Mr. Shifty Accidenti, questo subito ascensore non voglio andare più in alto di così E il Mega Plutonium è al piano superiore Ora, spero mi vediate bene, non benissimo ma bene Perché? Perché sto registrando con la fotocamera che è lì e il monitor è qui Quindi va bene, ok Spostiamo un pochettino il monitor qua, che così almeno sto dritto va bene Però magari questo qui sotto, ok Nemo, 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 nemo Non mi ricordo più, ok, così sì No, non così Allora, con assi ci teletrasporta, perfetto Non me lo ricordavo più, raga Contate da quant'è che non ci gioco a se gioco Ok, perfetto Ok Va benissimo proprio Non apro neanche le porte, perché sono trasgre e apro Apro lui, lo taglio in tre parti Cioè, non lo so So così ora No Sono Sono impedito Ok Perfetto Perfetto Ok No, perfetto Non è perfetto Non è perfetto Rifacciamo Tac, tac Allora Calmissimi Uno Due Tre Quattro Cinco Pochita bacchita Allora Uno Due Tre Quattro Cinque Ok Sei Ok Gesemu Perfetto Perfetto Non c'è scritto tieni premuto B C'è scritto premi B Trovo una chiave d'accesso Ok Perfetto Andiamo Porca vacca Ora che ti stiamo aspettando Eh Ah Con quale framerate me lo stai dicendo? Ma ok Va bene Lo accetto Guarda per i capelli brutti e cattivi che c'ho oggi Però vabbè No Mi è partita la cosa Ah Ciao Fantastico Questo gioco è meraviglioso Ma che tu eri meraviglioso Eri Ora non più Matta Perfetto Che cavolo Ok Questi Questi con un colpo mi Mi stendono Mi sembra di ricordare No Ok Perfetto Perfetto Sono potentissimo Non lo sapevo Non pensavo di essere così forte Ok Tac Ok Perfetto Morta Marta 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 Ok Come ho fatto a morire Ah già c'era la pistola Uè pistola Pim 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 Ok Pim Pim Oh grazie Una Ok Pagaiate Cos'è successo Perché ha fatto questa Questo brobrio Stottissimo Morite Morite Ah Ok Primi B Perfect Uh probabilmente Non è neanche cosa buona No dai Davvero Da cosa non hai capito Dal fatto che mi sia chiuso dietro Pim 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 Premi B Ah la chiave Grazie Ottimo lavoro Ritorno l'ascensore Però qua c'è qualcosa Ah ok posso prendere il computer e distruggerlo Ovviamente Non so se avete notato che ho cambiato location Perché ho Oh porca vacca È una travola Corri Ah Corriamo Ta 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 No però se io Cioè Morite Morite male Morite male Ma non è che questo l'avevano già fatto Mi Mi sembra che L'avevano già fatto Porca vacca Oh porca vacca Ah Morite No No Porca vacca Sono tesissimo Regà Non potete capire La tesanta Tesanta Ma che cavolo Bip 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 Sparato 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 No no Non sparato Scherzavo Porca vacca Ma scusate Ma ci sono i laser dietro Perché Mettono delle persone A dover A spararmi Che moriranno Queste persone Molto probabilmente Cioè Molto probabilmente È anche già successo Ok Mo Cacca Premi B Che lui Digita con la testa C'è proprio Torna all'ascensore Sembra di averlo già fatto A sta parte Nello scorso video Non mi ricordo Spero che non si noti Che ho gli occhiali rotti Nella Nella registrazione Spero Che caspita sta succedendo C'è il frame rate Più Più basso della vita Ok Va bene Ok Lo accetto Lo so Mi sembra che l'hanno già fatto Sto Potrebbe essere Potrebbe No È tutto Hendrix Chiude Ciao a tutti Anzi no Vi ricordo di mettere un mi piace A questo video Iscrivetevi se Ovviamente Vi piace il mio canale Condividete il video Iscrivetevi Scusate Iscrivetevi al mio canale telegram Che trovate qui in descrizione Hendrix Chiude Ciao a tutti Cos'è Ciao a tutti Vabbè Ciao 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 a tutti